Si appresta ad entrare nel vivo la stagione agonistica 2019-2020 dell'Orlandina Basket. Ieri la penultima amichevole precampionato ha visto la squadra di coach Sodini uscire sconfitte dal palasport di Piazza Armerina, dove la fortitudo agrigento ha vinto per 86-60. Sabato, l'ultimo impegno di pre-season, vedrà i paladini ospiti della pallacanestro Trapani al Palailio, mentre domenica la squadra si presenterà ai suoi tifosi in Piazza Matteotti. L'appuntamento, inserito all'interno del September Fest, è fissato per le ore 19. Per noi è importante andare in mezzo alla gente ancora di più rispetto all'anno scorso, anzi, suggellare insieme quello che è stato l'entusiasmo di una stagione avvincente come quella appena passata e ricompattarci per prepararci a viverne una ancora migliore. Una presentazione che sarà abbastanza leggera, non durerà tanto in modo tale da consentire ai tifosi di seguirla per tutta la durata, alle 19, la cui struttura prevederà fondamentalmente la presentazione della squadra, gli interventi ovviamente del nostro presidente, del nostro coach e del nuovo capitano di Orlandina Basket, Jacopo Lucarelli, per poi ovviamente lasciare spazio alla presentazione delle nuove divise da gara dell'Orlandina Basket. Una di cui la seconda è già stata parzialmente svelata sui social e ha fatto anche molto scalpore. La prima è tutta da scoprire.